Il contributo dei migranti e rifugiati è fondamentale per la crescita sociale e economica delle nostre società. È un potenziale che è pronto ad esprimersi se solo gliene diamo una possibilità. Come possiamo, secondo voi, favorire lo sviluppo di questo potenziale? Innanzitutto ascoltando e sentendo da loro qual è esattamente il loro potenziale e mettendo in atto delle iniziative che possano aiutarli a scoprirlo, a farlo crescere e a metterlo a disposizione degli altri. Llevarlos della mano orientandolos con capacitazioni per cui possiamo ottenere buona pratica nella innovazione e nel emprendimento per essere prosperi in questa società. Grazie per la scuola. Per fare la scuola, per essere riusciti e per essere riusciti. Per essere riusciti in questa scuola, per essere riusciti in questa scuola. Abbiamo le abilità, abbiamo le conoscizioni, possiamo capacitarci e poter fomentare una una mejor vita, tanto per la nostra famiglia come per la nostra società, in cui ci alloja. Mi nome è Lucy Joua, sono sud-sudanese, un raffigio che viviamo in Kenya. Sono un lavoratore di comunità, sono un lavoratore di lavoro, ma perciò che faccio il mio lavoro, faccio un 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 lavoro. Mi lavoro ha un'impacto nella comunità economica di un'impacto di comunità, perché ho integrato nella comunità e ho donne che vengono a me e chiamano se poterciare se poterciare, specialmente per fare la cucina. E ho trainato molte persone, molte donne, che ora faccio la cucina, per aiutare la famiglia. E anche per comprare materiale dal mercato, è parte della mia contribuzione per l'economia della comunità della comunità. Come un raffigio, non ci siamo semplici. Abbiamo anche qualcosa che sappiamo, che possiamo poterciare con la comunità della comunità. Ci sono altri, gli 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 altri, che possono poterciare l'economia di Kenya. Grazie a tutti.